Inizia un nuovo anno con tanti auspici all'indomani di una notte di San Silvestro sottotono a Esernia bar chiusi alle 19 con una sorta di coprifuoco generale, ordinanze restrittive in tutto il Molise, proseguono le lunghe code davanti alle farmacie, il sindaco Castrataro annuncia screening gratuiti per la popolazione scolastica. Giusi Di Maio di Porto Cannone, la prima nata del 2022 in Molise, è venuta alla luce all'ospedale di Termoli ed è il simbolo della rinascita. Questa la speranza dei molisani per il nuovo anno, fine della pandemia e ripresa generale della piccola regione. A Colli nel fiume Volturno e a Termoli nel mare Adriatico i primi tuffi di diversi temerari. Primo dell'anno in corsia per il personale dei reparti Covid dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, professionalità, accoglienza, umanità per chi lotta contro il virus e intanto Florenzano si sfoga su Facebook. Della sanità qui è rimasto solo lo scheletro, stiamo costruendo. Raffica di furti nella notte di Capodanno nell'Interland di Campobasso, quattro le abitazioni svaliggiate, paura tra la popolazione scesa in strada, polizie e carabinieri sul posto, ricerche senza esito. Regionali 2023, il Partito Democratico ha già ben chiara la rotta da seguire, un asse moderato che contempli la presenza del Movimento 5 Stelle, no invece all'eurodeputato Patriciello. Infine lo sport il calcio e il consiglio direttivo della Lega Pro ha deciso di posticipare agli inizi di febbraio la seconda giornata di ritorno, complice la recrudescenza della pandemia. Per il Campobasso il nuovo anno inizierà in casa col Monterosi. Basket la Magnolia Campobasso si gode il premio ricevuto in Ecuador dalla giovanissima Quignonez. Ben trovati a tutti voi, il più sentito augurio da parte mia e di tutta la redazione di un felice e gioioso 2022, un nuovo anno che inizia oggi ancora in piena pandemia, una giornata di Capodanno che arriva dopo una notte di San Silvestro molto sottotono, complici le restrizioni stabilite dai vari sindaci dei principali centri del Molise. A Disernia, ad esempio, dove siamo stati con una troupe, i bar hanno chiuso alle 19 e il centro storico era praticamente deserto, tante le persone invece che erano ancora in fila per un tampone. Vediamo. Notte di San Silvestro sottotono, la seconda in epoca Covid, con l'assenza del consueto conto alla rovescia in piazza, senza danze nei locali e con le famiglie per lo più chiuse in casa. A illuminare l'ultimo giorno del 2021 solamente i fuochi d'artificio che si sono alzati nei cieli di alcuni comuni, considerando le ordinanze di divieto dei sindaci. A Esernia la Polizia Municipale ha operato un sequestro nel cuore del centro storico. Lì dove nel giorno della vigilia di Natale si erano assembrate migliaia di persone, ieri sera c'erano solo pochi ragazzi per un aperitivo insieme, in sicurezza. Non avete rinunciato all'aperitivo dell'ultimo dell'anno, naturalmente in sicurezza e stando attenti, vero? Certo, ovviamente sì, con le dovute precauzioni. Cosa pensi di questo momento? Se volessi tu dire qualcosa ai tuoi coetanei, come comportarsi? Visto che bisogna anche rinunciare ai viglioni. Si devono rispettare le regole imposte perché sennò non ne usciremo più da questo problema. Sì, è difficile, ma comunque noi cerchiamo di fare una cosa in sicurezza tra amici, sempre rispettando tutte le regole del distanziamento sociale per la nostra salute e per quella degli altri. Con i tuoi amici si parlava del vaccino, tu sei vaccinato? Ovviamente, verso la terza dose. Convintamente ti sei vaccinato. Bene, un appello magari che vorresti fare a chi invece ancora non l'ha fatto, a chi non si è sottoposto. E che gli altri possano avere il buon senso di vaccinarsi, spero solo questo. Come da ordinanza del sindaco Piero Castrataro, bar chiusi alle 19. E a verificare il rispetto della norma, oltre alla polizia locale, anche gli operatori della protezione civile. Siete qui per dei controlli serrati? Sì, per l'assemblamento e per la mascherina. Abbiamo fermato un sacco di ragazzi senza mascherina e alcuni che non ci sentono proprio, se la mettono e se la levano così. In generale la presenza della mascherina c'è, però qualcuno, come diceva Marianna, ha un po' le orecchie dure, quindi non riesce a capire che la mascherina, essendo tra l'altro un obbligo, visto l'ordinanza del sindaco, nonché quella nazionale, sono un po' reticenti a metterla, però insomma siamo qui apposta per dare un consiglio, principalmente a loro. Una serata, quella dell'ultimo dell'anno, trascorsa anche a fare tamponi per la farmacia di fronte alla cattedrale di Isernia. Circa 300 in una sola giornata, con un alto tasso di positività. In fila chi ha avuto contatti con positivi, chi era invitato a cena da amici e genitori e voleva essere certo di non rappresentare un potenziale vettore del virus. Sono davvero tanti, ci aspettavamo una folla simile, aspettavamo questi numeri, forse non così tanti. Siamo in sovraffollamento, abbiamo fatto orario continuato, come facciamo di solito, ma perché è una situazione un po' di emergenza. Mediamente stiamo facendo anche un 300-400 tamponi al giorno, per cui sono numeri eccessivi rispetto alla norma. Percentuale di positività che emerge? Purtroppo alta, per fortuna stanno bene, quindi questa è la nota positiva in questa situazione. Ed ora i numeri della pandemia, ancora più di 400 nuovi contagi. Ieri questo è il dato che è stato diramato dall'ASREM su quasi 2000 tamponi e al momento ci sono 1763 persone in Molise affette dal virus. Sentiamo Pierluigi Boragine. ...429 nuovi contagi e record di tutti i tempi per quel che riguarda i tamponi refertati. 1.954, positività pari al 21,9%. Insomma, ancora numeri monstro per il piccolo Molise. 87 positivi a Termoli, 57 a Campobasso, 33 a Isernia, 21 a Venafro e Casacalenda, 17 a Guionesi. Omicron dunque avanza. Per fortuna, senza incidere sulle ospedalizzazioni, nelle ultime ore nessun nuovo ricovero e un dimesso dal reparto di malattie infettive. I degenti al Cardarelli sono 20, 1 in terapia intensiva, 11 non vaccinati, 10 i guariti di giornata, 1.763 i casi attualmente positivi, 3.046 i molisani in isolamento. Giussi Di Maio è la prima nata nel 2022 in Molise, è venuta alla luce intorno alle 4.30 del mattino all'ospedale Santimoteo di Termoli per la gioia dei genitori e della sorellina. Parliamo più ampiamente nel prossimo servizio di sanità, oltre a questa bella notizia, col secondo capodanno in corsia per il personale dei reparti Covid dell'ospedale Cardarelli e in queste ore c'è stato anche uno sfogo del direttore generale dell'ASREM, Florenzano, proprio sulle condizioni del comparto in Molise. Sentiamo. È Giussi Di Maio la prima nata in Molise del 2022. La piccola del peso di 3,60 kg è venuta al mondo nel punto nascita di Termoli alle 4.30 del mattino grazie allo staff coordinato dal primario Dino Molinari. Giussi sta benissimo, così come la mamma, Maria Grazia D'Apolito, che sta condividendo questa felicità col compagno e papà della bimba Gianluca Di Maio e con l'altra piccolina Fiorella di due anni e mezzo. La coppia di Porto Cannone ha ringraziato lo staff di medici e infermieri e questo evento, esaltato anche dal sindaco Francesco Gallo, arriva quasi come un segno, calcolando quanto il punto nascita dell'ospedale Santimoteo sia stato messo a rischio nel corso degli anni e fino a qualche mese fa e quanto solo attraverso le sentenze della giustizia amministrativa si sia riusciti a preservarlo finora. La professionalità degli operatori contraddistingue anche i reparti Covid dell'ospedale Cardarelli, unico presidio sanitario del Molise a occuparsi delle persone affette dal virus e che in queste ore sta tornando sotto stress a causa dell'impennata di positivi. Da qualche giorno ha riaperto il quinto piano della struttura, cioè il secondo, con posti di area medica e anche stavolta gli infermieri in servizio il primo giorno dell'anno hanno portato un sorriso, oltre che la loro attenzione, ai pazienti che stanno lottando contro il Covid. Una sanità complicata, piena di mancanze, quella molisana a causa del deficit dei piani di rientro, la carenza di servizi sta nuovamente emergendo con l'avanzata della variante Omicron. Ambulanze di nuovo di corsa lungo tutto il Molise, difficoltà nel trovare risposte, ad esempio per i bimbi di pochi mesi affetti dal virus. Eppure noi tutti insieme ci siamo messi a costruire, non a ricostruire, lo sfogo del DG ASRE, Moreste e Florenzano, su Facebook, perché questa sanità ha proseguito in piano di rientro, ha avuto così tante privazioni da esserci rimasto solo lo scheletro. Da lì siamo partiti per cercare di rimettere in piedi una macchina che sia più vicina alle esigenze dei cittadini. Per me la fine dello scorso anno non è datata 31 dicembre 2020, ma 27 dicembre, il giorno dell'arrivo dei vaccini. Quel giorno di rinascita della scienza e della vita è stato anche il momento dell'inizio di una costruzione che per 12 mesi non si è fermata e che andrà avanti anche dopo. Ed è proprio quello che sperano i molisani. Ed ora andiamo a Colli al Volturno dove, come ogni primo dell'anno, c'è stato il tuffo nel Volturno, questa volta protagonista Alessandro Angelone, giovane commerciante proprio di Colli, 35 anni, che ha raccolto il testimone di Gaetano Di Carlo, diventato famoso a livello nazionale per i suoi tuffi di Capodanno nelle geli di acque del Volturno. Sono tuffi che lo hanno visto protagonista per oltre 30 anni. Adesso Alessandro Angelone ha voluto tuffarsi senza paura e lasciare anche un messaggio di speranza a tutti i molisani per uscire fuori dalla pandemia. Anche a Termoli c'è stato, dopo un anno di stop, il tuffo in mare di diversi temerari che hanno voluto riprendere la tradizione. Sono 13 anni che va avanti questo rituale, chiamiamolo così, sulla spiaggia termolese. Vedete tante persone che hanno sfidato la bassa temperatura del mare Adriatico e si sono tuffati, un buon auspicio. Questo gesto rappresenta proprio una speranza per l'inizio del nuovo anno che porti serenità e sicuramente eventi positivi, gioie per tutti. E restiamo su questo tema perché cosa chiedono i molisani che arrivi con l'avvento del 2022? Sicuramente la fine della pandemia. Cos'altro? Lo sentiamo in questa piccola inchiesta. Serenità, felicità, salute, le richieste dei molisani al nuovo anno. Poi c'è il coronavirus che ha cambiato la vita delle persone e uniformato i desideri per il 2022. Quasi tutti gli intervistati fanno riferimento alla pandemia e la speranza è quella di superare il momento di criticità che attanaia l'intero pianeta. L'auspicio, dunque, è di superare il Covid. Non poteva mancare un riferimento all'unico antidoto, il vaccino. Un pensiero. Infine, i molisani lo rivolgono anche a chi, fino ad ora, ha deciso di non ricevere il siero salvavita. Mi aspetto innanzitutto che le persone abbiano la concretezza e la buona volontà di vaccinarsi, perché l'unico modo, a mio avviso, per combattere questa pandemia è la vaccinazione. I numeri li conosciamo, i casi in ospedale aumentano e la maggior parte sono le persone non vaccinate. Quindi per aiutarci tutti sarebbe meglio appunto convincersi, prendere coraggio per chi ha banalmente paura e fare un gesto buono per se stessi e per gli altri. Ma io, prima di tutto, spero che finisca questa pandemia che ci sta uccidendo tutti. Poi, che l'anno sia migliore per l'anno passato, perché abbiamo fatto due anni di sacrifici enormi. Questa è la cosa migliore, poi altro. Alla mia età non è che devo spendere parecchie cose. Speriamo che sia un anno più sereno e che comunque questa pandemia metta freno a questa diffusione, così da poter riprendere un po' i rapporti sociali come eravamo abituati. Sicuramente speriamo che sia un anno migliore. Alla fine sono stati anni difficili, quindi vogliamo un po' di serenità. Quindi quello che si chiede al 2022 è la serenità, spero. La riapertura totale. La riapertura totale è una speranza di un buon 2022. Salute, salute, salute. Tutto il resto non conta, solo la salute. Anche per i Novax. Soprattutto per loro. Felicità. La cosa più importante, speriamo bene. Almeno di uscire fuori da questa pandemia, che è la cosa più grave che adesso ci assilla a tutti quanti. E poi il bene di tutti. Ma in primis penso proprio alla pandemia. Non vedo altro. Guarda, sicuramente un sereno 2022 e che finisca al più presto questo stato di ansia e di panico che ci ha messo questa pandemia, purtroppo. E che la gente si responsabilizzi. Perché purtroppo tutto dipende da noi. Non possiamo sempre aspettare che gli altri ci dicano che cosa dobbiamo fare. La responsabilità è la nostra. E secondo me ognuno di noi deve fare la sua parte per poter al meglio pensare al nuovo anno in una maniera sicuramente migliore e più felice per tutti. che è il Covid. Tutto qua. E finiscono le restrizioni. Sperando che l'economia si riprenda. Va bene? E ha parlato di ripresa anche Monsignor Camillo Cibotti il vescovo della diocesi di Isernia Venafro che ha presieduto la celebrazione religiosa che si è svolta ieri sera nell'ultimo dell'anno nella cattedrale di Isernia dall'altare ha pronunciato la sua omelia invitando tutti a stare uniti e a conservare delle speranze perché andiamo oltre questo periodo così difficile soprattutto per le persone più fragili. Questo è il monito del vescovo Cibotti. Cambiamo argomento e parliamo di politica in particolare delle regionali prossime del 2023 perché già se ne parla molto già sono in atto dei movimenti politici e il leader del PD Molise Vittorino Facciolla auspica un'alleanza di centrosinistra col Movimento 5 Stelle. Sembra però chiudere all'eurodeputato Patriciello che nei giorni scorsi ha parlato della necessità di un movimento civico. Sentiamo. Le ultime dichiarazioni dell'europarlamentare molisano Aldo Patriciello rilasciate in una lunga intervista a primo piano Molise non sono passate inosservate. Con l'intenzione di ridare voce e forza al territorio Patriciello ha espresso l'intenzione di lanciare personalmente un movimento civico e si è detto favorevole ad un progetto politico più inclusivo per il bene del Molise. Un messaggio però che il Partito Democratico ha rispedito al mittente. Guardi, allo stato attuale credo che non sia fattibile. L'onorevole Patriciello è abituato a scegliere dove collocarsi alla fine, all'ultimo secondo. Io credo che questo non sia un percorso fattibile oggi. Credo che la scelta la si faccia nella chiarezza della proposta e se non vi è chiarezza di proposta non può esserci nessuna possibilità neppure per noi di fare valutazioni diventano irricevibili. La circostanza che l'onorevole Patriciello apra la parte moderata è un'apertura che interessa chiunque ma definire poi la possibilità di poter in qualche modo cogliere un'utilità da questo tipo di ragionamento credo che ce ne passi. No dunque a Patriciello ma sì al Movimento 5 Stelle con cui il Partito Democratico è intenzionato a correre per le prossime elezioni regionali del 2023. Ma non partire da un'idea di collaborazione forte politica, se vogliamo, anche programmatica con il Movimento 5 Stelle io credo che sia un errore che noi non vorremmo commettere. Ognuno di noi poi ha sue caratteristiche caratteriali, professionali, di conoscenza che a volte ti portano a divergere nelle valutazioni ma francamente stiamo provando a mettere insieme una federazione delle minoranze vuoi anche per la prospettiva politica che ci vedrà noi ne siamo convinti insieme ai 5 Stelle anche nel prossimo futuro. Quindi provare oggi a migliorare la qualità della nostra interlocuzione non solo è utile ai cittadini molisani ma per noi è anche affinare una proposta politica che vorremmo fare insieme a loro. Una rotta dunque già tracciata frutto della comune opposizione al governo del presidente Donato Toma che le ha visti coinvergere in questa dodicesima legislatura su più fronti. Per la cronaca paura la notte scorsa nell'Interland di Campobasso precisamente nella zona delle coste di Oratino dove una banda di ladri ha fatto incursione in quattro abitazioni svaliggiandole l'allarme è stato lanciato dai residenti che rientrando in casa per il cenone dell'ultimo dell'anno hanno fatto la mara scoperta poi si sono riversati in strada hanno chiamato le forze dell'ordine sul posto è intervenuta la polizia in supporto anche ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi ascoltato i testimoni e sono state attivate immediatamente le ricerche purtroppo senza esito di questa banda che ha messo a segno diversi furti seminando il panico. Due dipendenti del perimetro di Stellantis l'ex FCA Termoli sono finiti nei guai e anche agli arresti domiciliari per furto aggravato grazie al blizzo operato dai carabinieri della compagnia adriatica i fatti sono avvenuti prima del Natale quando i due avrebbero asportato pezzi di ricambio e scorte alimentari destinate alla mensa aziendale oltre al provvedimento di natura cautelare convalidato dalla magistratura frentana c'è anche il risvolto di natura disciplinare perché i due lavoratori infedeli sono stati sospesi ovviamente dall'azienda per cui operano che sarebbe quella che gestisce la sorveglianza del plant e poi arriverà probabilmente il licenziamento mentre la rifurtiva è stata recuperata nelle loro auto e sequestrata il messaggio per l'arrivo del nuovo anno del sindaco di Sernia Piero Castrataro parte innanzitutto dalla prevenzione perché ha annunciato che prima del rientro in classe dei ragazzi quindi il 10 gennaio si procederà a uno screening gratuito per l'intera popolazione scolastica per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni quindi gli studenti che fanno riferimento alla competenza comunale poi Castrataro ha anche annunciato che saranno installati sempre nelle scuole comunali specifici dispositivi per la sanificazione dell'aria e delle superfici poi ha annunciato anche diversi interventi per esempio sul sociale perché sono stati stanziati 150 mila euro per misure solidali la metà per i buoni spesa inoltre per quanto riguarda l'edilizia residenziale è stato avviato l'iter per la ristrutturazione di 7 alloggi popolari nel centro storico grazie a un finanziamento di 500 mila euro e poi c'è il bando periferie sono stati recuperati 11 milioni di euro che il comune aveva rischiato di perdere infine per le infrastrutture Castrataro dice siamo riusciti a recuperare i fondi regionali necessari alla realizzazione della strada di collegamento tra il terminal degli autobus e lo stadio Lancellotta colgo l'occasione ha concluso il sindaco di Sernia per augurare a tutti un buon 2022 che sia un percorso di rinascita per la città Pentra superata la diffidenza iniziale ormai abbiamo imparato a usare i dispositivi di protezione individuale parliamo innanzitutto delle mascherine che ci accompagnano praticamente sempre che insieme al distanziamento ci consentono di prevenire il contagio sentiamo ancora Samantha Ciarla in questi ultimi due anni abbiamo imparato ad utilizzarle superando lo sconforto e la diffidenza iniziale oggi siamo consapevoli del fatto che continueranno ancora a far parte della nostra quotidianità parliamo delle mascherine oltre al vaccino l'uso dei dispositivi di protezione individuale e il distanziamento sociale sono considerati i comportamenti più appropriati e utili per combattere la diffusione del virus tutti i giorni la dobbiamo portare anche se qualcuno ancora non l'ha capito è il principale mezzo per contrastare il contagio li vediamo tutti i diligenti con la mascherina eh sì sì per forza bisogna difendersi e difendere gli altri è utile ok inizialmente di stoffa quelle ora più usate sono le chirurgiche le FFP2 con una capacità di filtraggio superiore al 90% sono richieste anche all'aperto in zona bianca in base a quanto previsto dal decreto festività che impone anche l'obbligo fino al termine dello stato di emergenza di indossare le mascherine di tipo FFP2 in occasione di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso in teatri sale da concerto cinema locali di intrattenimento e musica dal vivo e per eventi e competizioni sportive c'è chi le personalizza chi opta per una versione colorata o in pandan con l'abbigliamento l'importante è indossarla sia per se stessi che per proteggere il prossimo probabilmente a causa della paura legata ai fuochi d'artificio a Campobasso un cagnolino era fuggito dalla sua abitazione ed è rimasto incastrato tra le sbarre di una balconata sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del comando provinciale che lo hanno liberato era ancora molto spaventato era però in buone condizioni non aveva avuto conseguenze da questo piccolo incidente è il momento del meteo scopriamo insieme che tempo farà nelle prossime ore in Molise queste le previsioni per domenica 2 gennaio 2022 tempo stabile e per lo più soleggiato su tutto il Molise eccezione fatta per locali nubi basse sul termolese in rapido diradamento in serata primi annuvolamenti ma senza fenomeni associati temperature ancora miti mare poco mosso vediamole nel dettaglio le temperature minime e massime nei principali centri della regione campo basso 9,17 gradi isernia 8,15 termoli 9,16 benafro 7,14 gradi ed ora una brevissima pausa restate con noi tra poco torniamo per la pagina sportiva ed eccoci tornati insieme per parlare di sport anche in questa giornata che dà il via al 2022 a causa della recrudescenza del contagio da covid-19 è arrivata una decisione da parte del presidente Ghirelli il numero uno della Lega Pro ovvero quella di sospendere e di rinviare la prossima giornata di campionato quindi il campionato di serie C tornerà in campo solamente il prossimo 16 gennaio la giornata del 9 è stata rinviata e ciò significa che il campo basso tornerà a giocare in casa col Monterosi in considerazione della situazione che stiamo vivendo non ci sarà la partita col Taranto vedremo quindi se ci saranno con l'andare avanti delle settimane nuove decisioni ma al momento questa è quella presa nelle ultime ore da Ghirelli si torna in campo per la Lega Pro il 16 gennaio Campobasso Monterosi la Magnolia Campobasso parliamo quindi di basket tornerà ad allenarsi nella giornata di domani tra le rosso-blu c'è chi come l'ala Blanca Chignonez ha vissuto una fine del 2021 tra gli applausi sentiamo Vincenzo Ciccone sono giorni di riposo in coincidenza con il Capodanno per la Magnolia Campobasso che dopo due gare saltate a Sesto San Giovanni ed in casa con San Martino di Lupari vede in forse anche la trasferta dell'Epifania ad Empoli nell'attuale morsa del Covid-19 nel frattempo nel gruppo rosso-blu c'è grande felicità per il premio ricevuto dall'ala dell'Equador Blanca Chignonez che mercoledì scorso nel gran galà della federazione cestistica del suo paese è stata insegnita il riconoscimento con l'atleta più in vista a livello internazionale un premio che la stessa sudamericana ha ricevuto a distanza il trofeo è stato consegnato nelle mani dei genitori ma che ha così accolto nello scenario dell'arena è stato un riconoscimento molto bello questa è una prova del tutto il lavoro che ho fatto da quando sono piccola e sono molto soddisfatta sono molto felice per questo e ringrazio tutte le persone che hanno fatto parte di questo processo che fanno parte di questo processo ed è arrivato un altro punto di penalizzazione per la capolista del campionato d'eccellenza Termoli il caso è relativo alla vicenda legata al tecnico Cortellini che non era stato saldato dalla precedente gestione quindi sono arrivati sei mesi di inibizione all'ex presidente del Termoli Castelluccio di cui quattro ancora da scontare non appena sarà nuovamente tesserato con sanzione per responsabilità diretta del club che è stato multato e come detto penalizzato di un punto in classifica così alla fine del girone d'andata come è noto sono solamente quattro le lunghezze di margine dei giallorossi sulla più immediata inseguitrice che è il campo di Pietro tra prima erano cinque con questo punto di penalizzazione si riducono a quattro è un momento felice quello attuale per la polisportiva Molise che con un videomessaggio ha voluto augurare buon anno a tutti gli sportivi grazie 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 per quest'anno passate insieme ad allenarsi a gareggiare ad imparare ad essere atleti noi continueremo a farlo così come lo facciamo da 60 anni e tu sei pronto a partire? e si chiude così il nostro telegiornale in questa edizione festiva vi ricordo che potete rivedere online tutti i nostri servizi e tutti i nostri ITG tramite il sito teleregionemolise.it da parte mia ancora i più cari auguri di un buon anno e grazie di essere stati con noi arrivederci a